buongiorno a tutti giambito d'angelo diretta live dai mercati oggi è il 25 giugno giovedì e vedete siamo chiaramente sul candele daily state vedendo in questo momento il dax il sucio sul dax sapete l'indice tedesco e sapete anche che la germania è di fatto la maggiore critici nei confronti della grecia allora qual è il qual è l'idea vedete la giornata di ieri in cui c'è stato un netto di basso a cavallo della trend line vedete la linea rossa discendente del movimento appunto di medio periodo appunto sul dax come sapete tutti e short ma la cosa incredibile qual è che dopo la notizia che trovate oltretutto sul trend online della sospensione sapete nella notte nella serata di ieri delle trattative fra la grecia e l'europa il mercato questa mattina quando aperta alle 8 sapete che dax alle 8 ha avuto comunque il coraggio di salire e quasi di annullare la candela rossa di ieri questo che ci fa capire in termini pratici che malgrado appunto ci fosse una sorta di stallo quasi infinito ormai nelle trattative il mercato aveva comunque voglia di salire comunque di annullare la seduta negativa di ieri e comunque non così negativa come diciamo ci si poteva aspettare dopo appunto un ennesimo appunto sì e no altalenante per cui l'idea appunto che il mercato in qualche modo voglia comunque provare a salire e non aspetti altro che la scusa tra virgolette appunto della grecia per provare a fare direttamente con i massimi è probabile che almeno sappiamo che la volatilità diciamo ha un rapporto è inversamente correlata rispetto al trend long quindi normalmente quando i mercati salgono in maniera sana la volatilità scende non sale a differenza di quello che molti mi scrivono su facebook o via mail per ultimamente mi è successo e quindi qual è la cosa la cosa che comunque in ottica di salita ci potrebbe essere visto appunto il diciamo il l'evento macro sotto gli occhi di tutti ci potrebbe essere comunque un innalzamento della volatilità comunque anche in ottica di rialzo per lo meno nel brevissimo periodo bene questo è tutto ci aggiorniamo direttamente a domani gianvito d'angelo diretta live dai mercati per contattarmi potete chiedermi l'amicizia su facebook perché questo è il luogo dove normalmente interagisco con le persone che mi seguono oppure per chi non dovesse usarlo potete mandarmi un'e-mail all'indirizzo che vedete in sovraimpressione vi ringrazio gianvito d'angelo a presto grazie